Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Traffico per il momento regolare su tutta la rete autostradale, sulle principali tratte stradali della Toscana. Fina 1 si ricorda che stasera dalle 20 alle 24 per consentire lo svolgimento di una manifestazione religiosa sarà chiuso lo svincolo di Monte San Savino in entrata e in uscita. Si consiglia l'utilizzo dello svincolo di Arezzo. In Fipili invece si segnala che a causa di lavori per la messa in sicurezza del viadotto Ponzano sono in vigore restringimenti di carreggiata tra Empoli ed Empoli Centro in direzione Firenze con possibili rallentamenti. Treni fino al 19 agosto per lavori di manutenzione al viadotto Rignano sulla linea Firenze-Roma sospesa la circolazione tra Pontassieve e Figline. Prevista la riprogrammazione quindi del servizio con modifiche di orario e cancellazione e dove possibile corse bus sostitutive. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana e realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!